Il digitale sta cambiando il giornalismo, però diceva prima nel suo intervento l'Italia ancora non è pronta per fare il grande passo, un paese che non è pronto soprattutto dal punto di vista finanziario. Il digitale sta cambiando direi che non è esattamente corretto, il digitale ha cambiato il modo di fare il giornalismo o meglio gli strumenti che il giornalismo deve usare per essere se stesso, poi il giornalismo resta il giornalismo è fatto di dei crismi specifici che non cambia, la professione è quella, anzi grazie a Dio che resta quella. Il problema è che non è più in grado di sostenersi finanziariamente e non ci sono soluzioni all'orizzonte. Abbiamo visto esperimenti all'estero in America, crowdfunding piuttosto che fondazioni che fanno lavorare delle realtà splendide come ProPublica dove si fa vere inchieste del giornalismo ma le fondazioni sono un numero limitato e esperienze come ProPublica non possono essere replicate per tutti i giornali. Secondo me il problema in questo paese che è fermo a questa discussione ormai da anni, sta solo peggiorando la situazione ma in realtà i temi sul tavolo restano gli stessi, è sostanzialmente che non c'è l'interesse da parte di coloro che controllano il mercato, che controllano i grandi giornali a risolvere in tempi brevi questa cosa, perché qui bisognerebbe investire in ricerca e sviluppo, cioè bisognerebbe prendere dei soldi da qualche parte, invece di lasciarli nelle banche metterli nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni che esulino soltanto dalla pubblicità, che non basta mai, che non è mai bastata per l'online soprattutto che poi era il tema dell'intervento di oggi e soprattutto che nel caso specifico tende anche a contrarsi perché vediamo tutti i giornali che sono in difficoltà, che stanno chiudendo, che non riescono a tirare avanti proprio perché la pubblicità, anche quella tradizionale che una volta era in abbondanza, è venuta meno. Quindi il problema è chi potrebbe fare qualche cosa per portare avanti il giornalismo, fare uno step forward e quindi trovare nuovi sistemi di finanziamento, nuove cose, non ha nessuno interesse a farlo, perché è al centro di un sistema che si sta sfaldando, ma si sta sfaldando a partire dalla periferia e quindi a tutto l'interesse rimanere in piedi, fermo e aspettare fino a quando il giornale non gli casca o la testata o il sistema che sta controllando non gli piove in testa, perché avverrà entro 5-10 anni, saranno in pensione. Mentre chi è alla periferia possono essere i giornali che sono nati online, nuove iniziative, le cooperative giornalisti o il singolo che deve gestirsi nelle collaborazioni con altri e che non è tutelato e che lavora a cottimo sostanzialmente e che deve fare un altro mestiere per poter fare questo, ecco, quelli sono quelli che stanno soffrendo di più, che cercano nuove soluzioni e che paradossalmente sono anche quelli più pronti a sperimentare, di una sperimentazione che nessuno vuole fare.